Sarai espulsa se non parlerai. Una volta cacciata da questa scuola, non potrai più rientrarci. Credi di sapertela cavare alla scuola pubblica? Smettila! Parli da Snob. Snob io. Vuoi dirmi che pugnalare qualcuno è un gesto da persona civile? Avresti potuto ucciderlo davvero? Hai idea di quanto sia pericoloso quel punto? Certo che lo so. Che cosa hai detto? L'ho colpito lì per ucciderlo.